Esistono dei giovanotti a Mosca che voi avrete senz'altro incontrato. Questi giovanotti batticano le redazioni dei giornali al momento dell'uscita del numero, ma non sono degli scrittori. Li si vede a tutte le prove generali in tutti i teatri, anche se non sono attori. Li si vede alle esposizioni dei pittori, ma non dipingono. Chiamano le prime donne dell'opera non per cognome, ma per nome e patronimico. E sempre per nome patronimico chiamano le persone che ricoprono incarichi di responsabilità, anche se non le conoscono personalmente. Alla prima del teatro Bolshoi si spingono verso la settima e l'ottava fila, ad agitare la manina in segno di saluto a qualcuno nella prima fila di palchi. Al Metropol siedono ai tavolini più vicini alla fontana, e le lampadine multicolori illuminano i loro pantaloni a campana. Uno di questi giovanotti sedeva davanti a Rudolfi. — Allora, cosa ne pensa dell'ultimo numero? — Stava chiedendo Rudolfi al giovanotto. — Ilya Ivanić esclamò con trasporto il giovanotto, rigirando la rivista tra le mani. Un numero davvero incantevole. Ma Ilya Ivanić mi permetta di dirle in tutta sincerità che noi, suoi lettori, non riusciamo a capire come lei, con il suo gusto squisito, abbia potuto metterci questa cosa di Max Rudolfi. — Bel tipo, pensai, raggelandomi. Ma Rudolfi mi annicò con complicità e domandò. — Ma perché? — Per carità, esclamò il giovanotto. — Ecco, tanto per cominciare, posso parlare con tutta franchezza, Ilya Ivanić. — Si figuri, la prego — disse Rudolfi, raggiante. — Tanto per cominciare è completamente sgrammaticato. Sono pronto a sottolinearne venti punti contenenti dei grossolani errori di sintassi. — Bisognerà che lo rilega immediatamente, pensai, sentendomi gelare. — E lo stile? — gridava il giovanotto. — Mio Dio, che stile orrendo! E poi è tutto così eclettico, imitativo, fiacco, una filosofia spicciola, una superficialità da far paura, brutto piatto, Ilya Ivanić. Per giunta imita. — Chi? — chiese Rudolfi. — Avercenko! — gridò il giovanotto, tormentando il fascicolo e staccando con un dito le pagine incollate. Il banalissimo Avercenko. Ecco, adesso le faccio vedere. A questo punto il giovanotto cominciò a sfogliare freneticamente la rivista, mentre io, allungando il collo come un'oca, seguivo le sue mani. Ma purtroppo non trovò quello che cercava. — Lo troverà a casa! — pensavo io. — Lo troverò a casa! — promise il giovanotto. — Il numero è rovinato, mi creda, Ilya Ivanić. È un analfabeta completo. Ma chi è? Dove ha studiato? — Dice di aver completato la scuola parrocchiale. — rispose Rudolfi, con gli occhi che gli brillavano. Ma perché non glielo chiede personalmente? Posso presentarvi? Un verde muffa putrido apparve sulle guance del giovanotto, e i suoi occhi si riempirono di un terrore inesprimibile. Facemmo un leggevo inchino. Il giovanotto scoprì i denti, in un tentativo di sorriso, e il tormento deformò i suoi gradevoli lineamenti. E miso un lamento, e tiro fuori di tasca un fazzoletto da naso, e solo a quel punto mi accorsi che sulla guancia gli stava correndo del sangue. Rimasi di stucco. — Che ha? — esclamò Rudolfi. — Un chiodo! — rispose il giovanotte. — Beh, io me ne vado, — dissi seccamente, cercando di non guardare il giovanotto. — Si prenda le copie della rivista. — Presi un pacco di copie riservate all'autore. — Strinsi la mano a Rudolfi, fece un leggero inchino all'indirizzo del giovanotto, mentre lui, senza smettere di premarsi il fazzoletto contro la guancia, lasciò cadere a terra la rivista e il bastone. Indietreggiai verso l'uscita, urtai il tavolo con il gomito, e uscì.